Approvato il calendario 2021 della Giostra del Saracino, dopo un anno di stop, quello del 2020, la speranza è che il Covid non fermi anche le prossime edizioni. 19 giugno e 5 settembre sono le date in cui si dovrebbero disputare le due edizioni 2021 della Giostra del Saracino. È la Giunta Comunale ad approvarla insieme al calendario dell'anno giostresco. Come previsto, l'amministrazione comunale ogni anno è chiamata a dare il proprio consenso al documento attraverso il quale vengono scandite le date della manifestazione. I primi due eventi sono già stati sospesi l'offerta dei ceri al Beato Gregorio X e la cerimonia di premiazione dei giostratori in programma il 9 gennaio e il 6 febbraio. Così come indicato dalla Giunta Municipale, viene rimandata a successiva decisione, sentita la consulta dei quartieri, la possibilità di riposizionarle in altre date. Sarebbe un vero peccato se l'edizione che segna i 90 anni della manifestazione, cominciata nel 1931, fosse messa in discussione proprio dalla pandemia.